Ed eccoci qua, siamo a rifugio di Lagazzoni e come avrete forse capito sono via per questa settimana, non si fa più una mazza, vale di San Martino, interessante, allora il tempo è stupendo, come potete vedere c'è una vista della madonna e niente praticamente per una settimana buona fino almeno domenica non sarò più online, non farò più niente di che mi godo delle meritatissime vacanze, aspettatevi però che in futuro quando ritornerò ci saranno delle novità per quanto riguarda War Thunder e anche un altro paio di cose, un bel video tutto bello spostato, modificato, che fa dei casini però va benissimo, ciao ragazzi divertitevi, abbiate una buona settimana, non pensate a me e vedete di uccidere più i S6 possibili, ciao a tutti